Ci siamo tutti? Sì, così dai. Ci facciamo tutti? Sì, parto io. Quella domanda più dimensiale e poi... No, 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 no. Fai una domanda. Ci siamo tutti dai. Ellie, buonasera. Si aspettava un'accoglienza così bella dai cittadini che era mai... No, no, più dietro, più dietro. Dov'è? No, è stata una bella sorpresa. Abbiamo dovuto improvvisare un comizio anche fuori perché la sala non era abbastanza capiente per contenere tutte le persone ma ci fa piacere, è il segno di una vitalità e di questo progetto che Gian Guido porta avanti, che noi veniamo con piacere a sostenere, che è il più giusto per garantire un futuro migliore a questa città. Quindi è un bel segnale. Vi ringrazio. Segretario, queste elezioni del Capoluogo saranno un banco di prova anche per le prossime regionali in primavera? Intanto diciamo che siamo molto determinati a vincere questa domenica e questo lunedì e siamo felici che si sia dimostrata la capacità di costruire attorno alla credibilità della candidatura del sindaco uscente di Gian Guido una coalizione ampia, articolata e naturalmente noi continueremo in prospettiva a lavorare in questa direzione. mettere al centro un progetto che punti sulla qualità del lavoro, sulla qualità della vita delle persone, sul contrasto delle diseguaglianze, sulla giustizia sociale e anche sulla conversione ecologica. Credo che su queste basi saremo in grado di vincere e questo sicuramente sarà un buon auspicio anche per il futuro. Grazie a tutte e grazie a tutti e buon lavoro.